Potrebbe tenersi domenica 7 ottobre un referendum comunale consultivo Ornavasso. I cittadini sarebbero chiamati a esprimersi sulla loro volontà o meno di cedere alcuni terreni gravati da uso civico per lavori di arginatura del toce di Aipo, l'agenzia interregionale per il fiume Po. Per decidere sull'indizione della consultazione popolare e per l'approvazione di un regolamento che disciplini il referendum, è in programma una seduta straordinaria del Consiglio Comunale per domani, venerdì alle 18. Il progetto dei lavori risale al 2002, nel frattempo il fiume toce è passato di competenza alla regione Piemonte, ma un accordo raggiunto con Aipo prevede che sia quest'ultimo a proseguire l'intervento. Critico il sindaco Filippo Cigala Fulgosi, ogni tentativo di dialogo con l'agenzia si è rivelato inutile, segnaliamo una progettazione gravemente carente, basti pensare solo per fare un esempio al fatto che non siano previsti scolmatori per le acque meteoriche, afferma. Lo stesso prosegue spiegando che in preparazione al cantiere sono già state spropriate ed occupate buona parte delle aree dove sono state messe in campo anche opere di disboscamento. I lavori sono stati aggiudicati ad una ditta della Valsesia e dovrebbero iniziare il 15 di settembre. Il sindaco segnala però che Aipo non ha neanche iniziato la procedura di sgravio degli usi civici sull'ultima parte di terreni, con il rischio di costruire un argine monco. Da qui la decisione di dare la parola agli ornavassesi su queste aree, così quando Regione o Aipo ci chiederanno un parere potremo rispondere, ha concluso il sindaco Cigala Fulgosi. Occorrerà capire ora cosa deciderà domani il Consiglio di Ornavasso e con ogni probabilità anche se e come mettere in stand by i lavori visto che dovrebbero partire a metà del prossimo mese e invece l'eventuale referendum sarebbe programmato la prima domenica di ottobre.